Con l'inizio della preparazione lunedì prenderà al via la nuova avventura della Valentinas Bottegone, la quarta consecutiva nel campionato di divisione nazionale Serie C. Diverse le novità nella squadra del presidente Don Baronti, a cominciare dal nuovo coach Beppe Valerio che ha preso il posto di Giovanni Bassi che si è accasato al Biancorosso Empoli in Serie D. Il resto dello staff tecnico è stato invece confermato con Alessandro Capecchi, vice allenatore. Di notevole spessore i giocatori riconfermati, Nicola Bongi, Milo Staino, Filippo Giannini, Emanuele Rossi e Roberto Marconato. A questo nucleo, fra i più importanti della categoria, sono stati aggiunti due pezzi da 90, la guardia Alessio Paci, 28 anni, pesciatino, dal Benevento in DNC, e l'ala Davide Visigalli, 23 anni, senese, da Alto Pascio, con una partecipazione anche ad uno stage della nazionale sperimentale Under 20. Ai sette, già sotto contratto, verranno aggiunti un paio di Under che, insieme ad alcuni giovani del Vivaio, andranno a completare l'organico. La presentazione della squadra è in programma per mercoledì 28 agosto nella sede dello sponsor principale Valentina Scamicette. Con questi ritocchi, gialloneri di Bottegone si inseriscono nelle primissime posizioni della griglia di partenza del prossimo campionato.